Sono riuscita a passare il firewall di Dream Zero e a nascondermi dalle scansioni di virus. Spero che tu riesci a vincere gli inibitori ematici e allo sveglio ricordare. Osserva, osserva, ascolta, ricordami che ho danni, osserva, ascolta, resta lucido. Non sei solo. Ascolta. Ehi, mi stai ascoltando? Sì. Sì, ti sto ascoltando. Allora, c'è qualcosa davanti a te. Non vedo un cazzo. Non c'è una telecamera, guarda bene. Prova a girare un po' la testa, ci riesci? Ho le braccia addormentate. Non fare forza sul mantello, ti prenderanno i crampi. Dobbiamo soltanto... Sono bloccato! Stai calmo. Dobbiamo fare come ha detto la ragazza. Io non mi ricordo nessuna ragazza, lo vuoi capire? Smettila. Ok, siamo bloccati, ma siamo sempre insieme. Dobbiamo soltanto calmarci e pensare a cominciare. Che c'è? Shhh! Chi sei? Dove sono? Che cazzo c'è? Sei dietro di me. Forca puttana. Sei dietro di me, mi vedi? Sì. Sì. Perché io... Merda. Che cazzo è questa roba? Hai gli occhi? Sì. Ce l'abbiamo anche qui. Benvenuto nel club, amico. Devono averci innestato qualcosa mentre eravamo sdati. Anche tu sei bloccato da un montello di contenimento. Sì. Sono esattamente dietro voi due. Bel trenino del cazzo. Senti, lo vedi il codice che ha sul collo? Sai cosa significa, vero? Ce l'ho anch'io. Torna tutto. È che non riconosco la tua voce. Neanche io le vostre. C'è la 1416. No. Altro settore. 6008. 6009. Ho questo stronzo attaccato al culo da cinque anni ormai. Che stronzata... È un video gay. Non ha senso. Vaffanculo, stronzi! Che cazzo volete da noi, eh? Ci avete fatti venire qui soltanto per giocare a Pac-Man? Hai idea di perché siamo qui? No. Ciao. Voi che cazzo si... Non si parla ora. Si ascolta. Dovrete ascoltare le regole. Altrimenti morirete. Io dico sempre la verità. Ed io dico sempre la verità. Una di noi dice solo bugie. Chissà chi sarà. Ecco le regole. Ci sono cinque cappelli. Due neri e tre bianchi. Ecco le dire regole. Ci sono tre cappelli. Due bianchi ed uno nero. Ora ve li mettiamo in testa. Giocatore B. Il tuo cappello è bianco o nero? Ehi. Ehi. Tu là dietro. Lo vedi il mio cappello? Di che colore è? Sì. Silenzio. Bianco o nero? Nero. No! Che suc... Giocatore A. Bianco o nero? È nero! C. Tu hai un cappello bianco. C. Tu hai un cappello nero. O Tslefa... Ascolta... Recogliami i guardi. O Tslefa Ascont. Ascolta, ascolta. Recogliami i guardi con i guardi con i guardi con i guardi con gli indediti. Un'ina di noi! G陪la di noi! G陪la di noi! G陪la di noi! C'è solo bugie! Bianco! Sei morto! Grande! Lo sapevo che facevo bene a fidarmi di te Ora Ciccio però non mi dè nulla D'accordo Ciccio? Leviathan è stato un grande successo Ci abbiamo giocato a lungo ed è stato molto divertente Però ora con Leviathan 2 e la rimozione del modulo non letale La cosa si fa davvero, davvero interessante Il nostro campione ha superato il tutorial Ed è diretto al primo livello dove si entererà finalmente nel vivo dell'azione Se dovessimo perderlo non c'è problema Perché abbiamo sempre a disposizione nuovo materiale umano dal carcere orbitante di Dream Zero Abbiamo un gameplay eccezionale studiato fin nei minimi dettagli Abbiamo anche un anti-eggi Piccoli esseri aggrappati ad una console Il potere assoluto a portata di click Vi posso vedere uno ad uno dentro i vostri uteri di plastica Perché io sono entrata nella rete Io sono diventata un'anomalia del gioco Io sono il crash che spazzerà via il sistema Scegliete le vostre ultime mosse Il Leviathan non sta per essere ucciso Do you have music? Io sono diventata un'anomalia del gioco Io sono diventata un'anomalia del gioco 的时候